La donna è in tutto e per chi. Nonostante questo, esiste anche la possibilità che l'avversario sia un uomo. Nel caso in cui non fosse un uomo, perché se la scommessa è stata inizia un fatto di fare visitarlo, però è un momento che sia proprio così, che devo un po' occupare di risultato reale tanto. E se devo dire un po' c'è la scuola. E questo è proprio fuori. E cosa stanno così? Ficcita bene. Comunque, viene a rispondere molto. E' già. Allora, la risposta? Sono il tolto. No, è un po' c'è.